L'agenda di Paolo Borsellino diventa un viaggio, l'agenda ritrovata, seguitemi. Bisogna pedalare però eh, l'agenda ritrovata è una ciclostaffetta che parte il 25 giugno da Milano a Palermo per unire l'Italia e per ricordare, seguitemi. Vi ricordate l'agenda rossa di Paolo Borsellino che scomparve durante o dopo l'attentato? Beh, l'agenda rossa di Paolo Borsellino diventa un viaggio, una storia, diventa l'agenda ritrovata, una ciclostaffetta da Milano a Palermo. Le ruote delle biciclette uniscono l'Italia per ricordare, raccontare storie, raccogliere amici. Dal 25 giugno viaggerò anche io con voi, pedalerò in spirito dalle costole del Mediterraneo, dal mare della vicinanza. L'agenda ritrovata dal 25 giugno. Lunga, lunga vita l'agenda ritrovata e buon viaggio a voi. Coraggio ragazzi, pedalando si impara. L'agenda ritrovata dal 25 giugno.